Avevamo qualcuno che si divertiva addirittura a farne una, a rilegarlo questo documento e regalarlo al docente. 300 pagine che erano mattoni, terrificanti, difficile lettura. Guardate, bisogna riconoscere anche l'importanza della standardizzazione. Quando vi dico che il fatto di passare da un team all'altro in continuazione con colleghi francesi, tedeschi, polacchi, rumeni, ti dà la necessità di dover essere operativo fin dal primo momento. Perché noi siamo pagati a giornata. Quindi se noi dovessimo passare 3-4 giornate a coordinarci, a capire come dobbiamo fare il documento, a capire che cosa dobbiamo fare, noi sprecheremmo 3-4 giornate iniziali che non ci è consentito di sprecare. Quindi la standardizzazione che appare, diciamo, forse un po' noiosa, però poi porta al fatto che immediatamente ci si riesce a coordinare sul lavoro. Allora, saluto rapidamente tutti coloro che hanno acceso le telecamere che posso vedere con Sara, per esempio, Maria Claudia Serafini, Andrea Dessi, Susanna Lenzu, Mauro Manca, Francesca Roi, che vedo molto bene, Paolo Posadino, Andrea Lafauci, Fabrizio Lecca, Stefania Lecca, la nostra cara Claudia Firino, Viviana Serra, Caterina Secchi, Valentina Secchi, spero che li vediate anche voi, Giorgio Murro. Insomma, siamo arrivati a 73, aspettiamo ancora qualche minuto. Alessandro Mameli, Vincenzo, il nostro carissimo Vincenzo, Manuela Lai, Ignazio Cannas, Francesca Onnis, Dante Littera e Alessandra Bonelli. Insomma, Luca Spissu, state tutti in gran forma, vi vedo. Abblonzati, poco, significa che state lavorando molto, altro che quelli che dicono... E vedo anche Emanuela Cancedda, una delle rappresentanti della Next Generation Sardegna. Dico bene, Emanuela, tu sai che stiamo facendo questo sforzo per te, perché tutta l'Italia è mobilitata per voi. Quindi, rimpadronitevi del PNRR, perché è fatto per voi, per Bianca Maria. Io dico che noi dobbiamo essere l'anello di congiunzione tra la vecchia classe dirigente formata alla scuola di Fayol e voi. Quindi, datevi da fare, perché, tra l'altro, è una vergogna che per fare accedere i giovani al mondo del lavoro ormai non basti più la laurea. Ci vuole il master, ci vogliono a volte mio nipote, non per fare personalizzazioni, ma è laureato, 110 lode, in legge, si è dovuto prendere un'altra laurea in scienze politiche e poi mi ha detto, guarda, mi sono preso pure la terza in economia, perché quella in scienze politiche non mi dava tanti punti per poter partecipare ai concorsi. Insomma, è una follia, è una follia. Tenete conto che il piano Marshall l'hanno fatto gli italiani che, se andava bene, avevano arrabbattato la laurea nel periodo immediatamente dopo la guerra, quindi con una formazione di fortuna, eppure hanno fatto opere bellissime come l'autostrada del sole e tantissime altre opere anche nell'Italia meridionale. Quindi vi voglio dire un'altra cosa introduttiva, sempre per i nostri giovani. Lo dico spesso perché una volta sono andato a fare una revisione di un dossier di gara, cioè dei documenti di gara del progetto più grosso di finanziamento all'estero di una riabilitazione di ferrovia dell'Unione Europea, in Turchia, 350 milioni di euro. Allora dovevo fare questa cosa, ho detto, guardate, io la faccio, però mi servono due ingegneri locali forti nella materia degli impianti e del segnalamento. Mi hanno presentato due, uno aveva 29 anni, l'altro 32. Io quando li ho visti ho detto, che mi avete dato, i ragazzini? Perché mi aspettavo che mi dessero persone mediamente di 50-60 anni, si trattava di progetto internazionale con tecnologia. No, 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 questi qui sono forti, sono... Li ho guardati con una certa diffidenza, dopodiché ho cominciato a conoscerli, ho visto che erano fortissimi. Uno aveva 9 anni di attività internazionale, 32 anni, già aveva 9 anni di esperienza internazionale, aveva lavorato con l'Ansaldo. Quell'altro non so quante ce n'aveva di esperienza internazionale. Insomma, abbiamo fatto un lavoro eccezionale perché loro avevano una propensione al cambiamento che un vecchio cinquantenne o sessantenne bacucco come noi, come me, non ha. Quindi gli si chiedeva una cosa e loro partivano a razzo elaborando per il loro conto con molto più, diciamo, energia. Quindi è il momento di far lavorare i giovani, ovviamente accanto ai vecchi, perché purtroppo questo paese non ha una generazione di mezzo, per tanti anni la pubblica amministrazione non ha più assunto. È la stessa cosa che è successa in Serbia. In Serbia, quando si è caduto, diciamo, è morto Tito e poi non sono più stati finanziati dagli organismi internazionali per vent'anni. Quindi voi, ritornando in Serbia, vi accorgete che era un paese che aveva una buona organizzazione, dei servizi eccellenti. Pensate che nel campo dei trasporti su tram loro hanno una scuola che è considerata la migliore del mondo. Vukan Vucic, che è uno degli massimi esperti di metropolitane, è serbo e insegna alla Pennsylvania University. Quindi avevano una scuola di ingegneria pure fortissima. Però per vent'anni non hanno investito. Quindi voi entrate negli ospedali, sono andato a vedere quattro ospedali. Sono ospedali puliti, ben organizzati. Però avete l'impressione di vedere che per venti anni non hanno investito. Quindi letti ancora come erano vent'anni fa. Ecco, nella pubblica amministrazione è più sostanzialmente accaduto la stessa cosa. Per venti anni non abbiamo investito. Abbiamo disinvestito. Ho fatto questo progetto col Ministero della Giustizia. Mi hanno detto, per la creazione di un PMO, mi hanno detto, ti daremo dei giovani. Ha detto, sì, un giovane di controparte, il project manager di controparte. Sapete quanti... Sì, questo è stato assunto da poco. Ha detto, ah, bene. Sapete quanti anni aveva? Assunto, ne ho assunto. 45 anni. Aveva anche 10 anni di lavoro già abbondanti. Aveva fatto pure un anno di lavoro all'estero, ma aveva 45 anni. Ne ho assunto. Sono andato a vedere la media dell'età delle persone con cui dovevo lavorare. Sono rimasto impressionato. Ho detto, mi sono sbagliato. 54 anni era l'età. Cioè, significa che la pubblica amministrazione si è impecchiata e la vecchiaia si sente, purtroppo. perché da una parte avete una certa, diciamo, anche disaffezione, come vorrei dire, una certa disorientamento, perché i vecchi che ci sono erano bravi. Me ne sono accorto, proprio lavorando col Ministero della Giustizia, che questi poi vecchi che lavoravano con noi, erano entrati 30 anni prima nella pubblica amministrazione, totalmente demotivati, perché abituati a non vedere premiato il loro contributo, è stata proprio un'operazione quasi psicologica di incoraggiamento. E poi alla fine hanno dato dei risultati. Un mio amico e collega che partecipava nel film, che ha lavorato con me, mi ha detto, ma che hai fatto lì ai drogati? Perché sembrava che alla fine, quando hanno fatto la presentazione dei risultati, hanno portato alla luce tutta la bravura che avevano 20 anni prima. è venuta fuori una cosa sorprendente. Quindi, scusate, sto prendendo un po' di tempo in un pippone iniziale, ma volevo dirvi che anche bisogna recuperare le professionalità che ci sono nella pubblica amministrazione, un po', diciamo, disilluse e consentire il trasferimento delle conoscenze di questi pilastri della pubblica amministrazione ai giovani. Perché questo programma è fatto per loro e bisogna aprire le porte ai giovani, perché i giovani apparentemente li vogliamo già super esperti quando devono entrare nel mondo del lavoro. Ma non è possibile, cioè, una volta la laurea era la barriera all'entrata. Adesso non basta la laurea, ci vogliono i master, ci vogliono questo, ci vogliono quell'altro. E poi, chi ha un reddito basso, non si può permettere 10 anni di studi, magari fuori dalla propria sede. E quindi è ancora una volta una cattiveria nei confronti dei più deboli. Detto questo, quindi, grande attenzione ai giovani anche nel PNRR, mi raccomando. E non vi nego che nel nostro progetto noi avremo un occhio di riguardo per i giovani. Perché vi ho già detto che nelle strutture di project management in generale il ruolo del project manager è normalmente non un ruolo di un capo. Quindi non è il ruolo di chi a 50 anni è diventato dirigente. È il ruolo di una persona tra i 30 e i 40 anni che in Italia non è ancora diventato dirigente. Perché in Italia per diventare dirigente, se va bene, ci arrivi a 60 anni. È come i cardinali nella chiesa, no, che ci arrivano a 70-80 anni. Però è una persona che si è distinta per voglia di lavorare, per un contributo di idee, di lucidità, di rapidità anche. Oh, signori, detto questo, vi siamo giunti a... Vedo che siamo 115. Mamma mia, che bella sfida. E allora faccio partire una cosa, Vincenzo, che ieri non avevo ipotizzato, ma che poi, vedendo l'interazione che c'è stata, ieri sera ho corretto il tiro. Perché normalmente quando facciamo questi corsi, questo non è un corso, questo è un aggiornamento di un corso. Cioè si dà per scontato che voi, se avete, se vi siete iscritti a questo corso, è perché già avete una solida, diciamo, formazione di gestione di progetti. Magari non con le tecniche della Commissione Europea, che invece ci sono chieste per il PNRR, ma insomma, conoscenze di project management ce l'avete. Ma quello che io vi volevo proporre oggi, subito, farvi partire così, è un piccolo test di preentrata, che si fa sempre quando si fanno questi corsi di capaci, questi progetti di capacity building all'estero. cioè noi dobbiamo sapere con chi stiamo parlando. Perché se non abbiamo un'idea del livello di ingresso, diciamo, anche il test che si fa alla fine è poco significativo. Perché ricordate lo slogan di Obama? Lui diceva, Better is good. Cioè non è tanto importante avere un risultato finale ottimo, quanto aver migliorato il risultato iniziale. Quindi se noi vediamo quello che erano le conoscenze iniziali e poi vediamo che siamo riusciti un po' a uniformarle e a elevarne il livello, allora il progetto ha avuto un successo. A questo punto, quindi, io vi propongo una cosa, così mi riposo pure io un po', cominciate subito a scaldarvi voi. Vi mando un pre-training assessment test, si chiama. E' un documento in Word di tre paginette con dieci domandine a risposta multipla. Non vi preoccupate perché questo non costituirà elemento di valutazione a nessuno scopo. E' una cosa interna nostra per capire, diciamo, qual è il livello d'ingresso delle persone con le quali stiamo parlando. Allora, vi do la mia assoluta garanzia che non sarà, diciamo, oggetto di valutazione da parte di nessuno se non un'idea che mi farò io di voi. e quindi, tra l'altro, è assolutamente volontario. Se lo volete fare, fatelo. Se non lo volete fare, non succede nulla. Io sto cercando di metterlo sulla chat. Ditemi se riuscite a riceverlo. Vedo che c'è stato un errore, lo rimetto. Dottore, ma poi come glielo rimandano? Ecco, io adesso vi do pure un'idea di come è impossibile inviare pre-training test. Perché? Fai quick per... Perché è in uso. Ah, devo prima chiuderlo. Allora. Non salvare. Allora. Adesso dovrebbe poter essere... Vediamo se ci riusciamo. Inviato correttamente. Ok. Allora, adesso vi do le piccole istruzioni. Sono dieci domande. E' facile. Una richiesta. Se non sapete di che stiamo parlando, non rispondete. Altrimenti, diciamo, l'informazione che date, magari per fortuna, per sorte, puntando sulla sorte, può essere, diciamo, fuorviante per noi. Perché magari ci azzeccate per fortuna all'ingresso e non ci azzeccate in uscita. Quindi, per cortesia, se non sapete proprio di che stiamo parlando, non rispondete. Un'altra informazione. Sono quattro risposte per alternative, per domanda. Sono dieci domande. Scaricatelo, ma non ancora mettetevi a lavorare. Vi do io il via. Non vi preoccupate, non è un test, ma io vi chiedo una cosa. Lealtà. Cioè, dobbiamo lavorare in equal treatment. Cioè, dovete partire tutti quanti alla stessa momento e io ho piena confidenza che voi lo facciate quando vi darò il via. E ho piena confidenza che dopo dieci minuti dal via voi me lo mandiate. Se poi il mezzo me lo fa ricevere dopo venti minuti, non importa. Saprò che voi, onestamente, avete finito di lavorare dopo dieci minuti. Perché? Perché il tempo è un fattore importante. Avete capito che il PNRR ci fa una sfida. Dobbiamo essere rapidi, dobbiamo essere tempestivi. Quindi anche il PMO deve essere snello, rapido e tempestivo. Allora, intanto, ditemi se l'avete ricevuto o non l'avete ricevuto. Quando l'avrete ricevuto tutti daremo il via. Non guardatelo fino a che non vi do il via, per cortesia. E non vi intimorite più di tanto. Intanto siamo arrivati a 124 persone, quindi c'è una grossa partecipazione. Anche oggi vi ringrazio tanto. Allora, saluto gli altri che stanno arrivando. Se avete la possibilità di accendere la... Potete alzare le mani chi non l'ha ricevuto, per favore, che glielo spavano e provo a rinviare io. Sì, l'ho visto un attimo, però se non mi si ferma la chat non riuscivo a prenderla. Ho capito. Se vuole, io glielo posso mandare per mail. Lei lo può mandare per mail a tutti? Non so, forse... Io l'ho già ricevuto, l'ho già preso. riesco a inviarlo sia per mail che per chat. Benissimo. Io dico che questo serve anche un pochino a renderci più... perché il 15 tornerà tutta la pubblica amministrazione in blocco, in presenza. Ma questa pandemia ci ha anche abituato a lavorare in videoconferenza o in remoto. E non perdiamo questo patrimonio perché vi dico soltanto una cosa che è incredibile. Pensate che tra qualche giorno dovrò fare del training a degli ingegneri iracheni. un tempo sarei dovuto partire con una certa paura con costi di viaggio arrivare là essere pagato tre o quattro volte quello che sono pagato invece da casa e invece tutto questo lo faremo in webinar. Allora c'è perdere questa diciamo grossa cambiamento vantaggio di riduzione dei tempi di trasporto riduzione delle emissioni per i trasporti non necessari. Guardate che la raccomandazione degli organismi internazionali adesso per i progetti all'estero sapete qual è? Non fate nessuna attività in presenza se non strettamente necessaria. cioè noi stiamo facendo tutti i progetti da casa e vi posso assicurare che la qualità e l'interazione è assolutamente la stessa cioè andiamo giù una volta ogni tanto a fare dei sopralluoghi quando ci vediamo diciamo ma che ci siamo visti a fare se potevamo farlo tranquillamente da webinar quindi è un cambiamento epocale nei sistemi di lavoro pensare che tutti debbano ritornare un'altra volta in presenza al 100% anche quello mi sembra un ritorno al passato cioè il problema è saper lavorare su a distanza e quindi non consideriamo queste difficoltà che stiamo avendo come una perdita di tempo servono anche ad affinare il mondo del lavoro anche perché quando faremo sto PMO noi questo dovremo fare cioè non lavoreremo certamente tutti quanti insieme dentro una stanza quindi lavoreremo scambiandoci documenti vedendoci a una determinata ora rispettando la scaletta degli argomenti che abbiamo ci siamo fissati e riportando rispetto agli obiettivi della riunione che ci eravamo dati tenete presente che bisogna essere sintetici perché tutto diciamo il management è ispirato poi lo vedrete anche nelle slide persino dai tempi di Winston Churchill ma se mi permettete Winston Churchill era un emulo di Seneca perché Seneca scrisse che era il maestro di di Nerone come sapete e lui era tra l'altro spagnolo pensate quindi oggi noi siamo pensati diciamo approccio spagnolesco per dire un approccio prolisso e barocco invece Seneca inventò la brevitas scrisse la famosa brevitas e disse la gente attenzione a volte al piacere di sentire nelle proprie orecchie le proprie parole cioè dice state attenti a non essere prolissi perché molte persone parlano per ascoltare se stessi Winston Churchill disse un'altra cosa io devo coordinare un'azione straordinaria non posso perdermi nessuno dei vostri messaggi perché ognuno dei vostri messaggi può essere importantissimo per la salvezza nazionale ma scrisse un famoso documento per cortesia siate brevi perché io non ho il tempo di leggermi prendiamo questi come indirizzi perché noi siamo afflitti oggi da overdose informativa quindi abbiamo un sacco di cose quando non abbiamo ecco perché io vi chiedo di usare anche gli standard documento di nostra cosa che vi dico poi partiamo sto dando il tempo a tutti di ricevere questo documento è questo nella prima pagina del documento e non lo troverete nel mio quindi io per primo ho infranto le regole guardate che cosa abbiamo insegnato ai nostri ai nostri diciamo abbiamo insegnato abbiamo raccomandato ai nostri partecipanti al master loro producono un documento allora io approfitto per farvi vedere una cosa allora guardate i documenti che ci hanno prodotto vi faccio vedere uno per esempio ok allora perché guardate questa è una cosa di minor conto invece importantissima allora prendiamone uno per esempio dove stanno allora allora chi me l'ha chiesto io ho spedito potete controllare il la mail adesso spedisco l'ultimo benissimo noi dobbiamo mettere la risposta nella colonna pre allora questo ve lo volevo dire no vi conviene fare una cosa se siete d'accordo è un documento ve l'ho mandato di proposito in word in maniera tale che voi potete passare in rosso la risposta che secondo voi è giusta se non avete nessuna risposta che non sapete lasciate tutto in nero ma poi nell'ultima pagina se poi vedete c'è scritto pre e post nella colonna pre indicate il numero della risposta esatta che voi avete scelto la vedete sì sì vi volevo vedere solo questa cosa e poi iniziamo subito allora guardate un documento preparato dal durante il master da dei vostri colleghi ne ho preso uno non è necessariamente il migliore ma è un esempio di stile allora lo vedete lo vedete allora guardate questa cosa che che vi sto dicendo per 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 rispetto di chi vi legge allora un documento internazionale la ragazzina europea se non lo fate così ve lo boccia ma proprio a livello di qualità cioè il ragazzino che controlla la qualità vi dice non va bene rifallo allora innanzitutto vi chiede che voi in testa nella copertina indichiate delle informazioni obbligatorie dante l'intera tu mi starei dicendo ma che ci stai raccontando mi sto raccontando una cosa che ti fare risparmiare un sacco di tempo perché quante volte noi leggiamo un documento non capiamo di che tratta chi l'ha fatto che data porta se è vecchio obsoleto allora l'unione europea ci dice invece che non si accettano documenti che non abbiano l'indicazione di chi te l'ha commissionato in testa qui vedete map mastering management quindi io so immediatamente chi me l'ha commissionato poi di che documento si tratta che tipologia di documento cioè vedi qui io ci ho scritto ci ha scritto il tuo collega documento di identificazione io so che non è un documento di valutazione non sono delle linee guida non sono della relazione della progettazione è un documento di identificazione e io non posso mettere un nome che mi sono inventato a caso la tipologia del documento è nota o è un documento di identificazione o uno studio di fattibilità o è un documento di progettazione o è un rapporto di avanzamento insomma le tipologie dei documenti sono note devono essere riconoscibili poi ci deve essere il titolo del progetto vedi qui c'è scritto non è il titolo che hanno dato a questo progetto è next generation mitigazione del rischio idrogeologico per la next generation del comune di Capoterra troppo lungo o non è chiaro il titolo del progetto vedi ci sono troppe informazioni qui del progetto si raccomanda che sia breve perché deve essere poi ripetuto in tutti i documenti e deve essere univocamente quello non puoi portare un titolo che cambia durante il progetto altrimenti non si capisce niente quindi raccomandazioni mettilo tra virgolette e fallo diventare breve nel contempo ti devo deve essere immediatamente indicativo di quello ti deve richiamare alla memoria il progetto quindi deve essere un titolo suggestivo non confondere il titolo con l'obiettivo del progetto il titolo e il nome del progetto non c'è niente a che vedere con l'obiettivo l'obiettivo può essere più lungo normalmente sono 3-4 righe ma il titolo deve invece richiamare la memoria ovviamente non deve essere confondibile cioè non deve essere un titolo che si può confondere con altri progetti poi ci deve essere la data perché noi immediatamente dobbiamo capire se un documento del 2021 mi può interessare se un documento del 2012 e sono per esempio delle linee io immediatamente manco lo apro perché so che sarà stato superato o se lo apro è per una ragione diciamo di studio dell'evoluzione metodologica ma se io voglio delle linee guida e trovo delle linee guida del 2010 dico queste potrebbero essere state utili per capire come si lavorava dieci anni fa va bene poi naturalmente una cosa importantissima deve essere che ci deve essere gli autori perché io devo capire immediatamente chi l'ha fatto vedo che il documento è fatto adesso scusami Sara ti sto prendendo per scherzo ad esempio se leggo qui ho dentro tra i documenti Sara Podda e ritengo per assurdo che Sara Podda non sia una persona che per me ha fatto scuola manco me lo leggo quindi non devo neanche avere la possibilità o invece se vedo Sara Podda che sta tra gli autori dico no non me lo vado a leggere perché so che è brava va bene quindi c'è bisogno di questo poi il passaggio successivo signori cari questo sembrerà una stupidaggine invece fondamentale è l'indice 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 del documento è un'altra cosa essenziale che mi fa cambiare un sacco di tempo spesso io non ho cioè Maria Cristina non ho bisogno di leggere il documento ma mi è sufficiente vedere l'indice per vedere che non mi interessa quindi l'indice ve lo raccomando è assolutamente obbligatorio nei documenti di durati di numero di pagine superiore a 10 questa è la raccomandazione dell'Unione Europea quindi se io ho più di 10 pagine è obbligatorio altrimenti se so sotto le 10 pagine è raccomandato che si faccia in copertina un breve estratto in cui si dicono i contenuti del documento ma insomma io devo immediatamente vedere di che stiamo parlando indice con le pagine adesso vi dico una cosa che vi fa immediatamente capire la differenza tra noi so che sono registrato e un documento che ha fatto parlare tantissimo l'Italia per un mese vi ricordate quando fu chiesto il parere a una commissione sulla fattibilità della sulla verifica di fattibilità del del collegamento ferroviario della tab fu creata una commissione nominata dal dal governo dall'allora governo che riprese in esame la fattibilità della tab va bene ne abbiamo parlato per un mese intero per due mesi perché quella relazione diceva che secondo quegli esperti che si dichiaravano esperti internazionali il progetto non era fattibile e quindi alla riverifica non era fattibile bene andatevelo a vedere perché era pubblicato sul sito del ministero un documento di 74 pagine senza l'indice un documento di 74 pagine senza l'indice nel contesto europeo viene immediatamente cestinato dal ragazzino della qualità quindi sarebbe bastato quello per capire di che panni stavamo parlando non parliamo poi del non accenno ai contenuti ma vi volevo dire che formalmente se voi rispettate questa cosa voi state allineati con poi guardate nel documento di identificazione di questo di questi vostri colleghi vedete qui la sinossi che cos'è la sinossi è una pagina o la sinossi o l'executive summary la sinossi è una pagina che deve dare una visione sintetica del documento che voi state dando in una pagina vedete che questa sinossi è contenuta in una pagina quindi qua dentro va fatta ovviamente quando io ho finito il documento ho finito il documento e raccolgo nella sinossi tutti gli elementi essenziali vedete quali sono gli elementi essenziali della sinossi il titolo ve l'ho detto che è breve mitigazione del rischio idrogeologico per la next generation del comune di capoterra che deve fare scopa con la copertina ovviamente il proponente cioè gli autori poi vedete che c'è un quattro cinque righe sul contesto questo è il paragrafo iniziale la sezione iniziale di qualunque documento di progetto quindi ricordatevelo perché se vedete un documento di progetto senza il contesto è come se vedete una pianta di alto fusto senza le radici perché il contesto è la radice che tiene l'albero se uno non riesce a esprimere nel contesto perché si è fatto il progetto praticamente già dà un'idea della qualità del documento quindi qua dentro voi dovete spiegare quello che in inglese si chiama il background del progetto cioè perché il progetto è stato pensato e quali sono i motivi che lo hanno generato quali sono i problemi che lo hanno generato che lo hanno fatto poi vedete che c'è la struttura logica subito cioè gli obiettivi generali che vi ho detto quelli che sono quelli che il progetto contribuisce a conseguire ma da solo non consegue che normalmente sono espressi con un infinito vedete aumentare favorire e possono essere più di uno aumentare favorire normalmente sono messi con dei ballets cioè con delle palline quindi aumentare e la convenzione vuole che siano infinito voi direte ma non è sciocchezza poi vi spiego perché mentre invece l'obiettivo del progetto convenzione e commissione europea deve essere espresso con un sostantivo voi direte ma che stai a dire ma che stanno sei cretinaggini guardate che ho una spinta a ragionare bene perché l'obiettivo è una situazione che voi dovete promettere al termine del progetto quindi se lo mettete quando ho fatto i corsi con Irene Lorinska e mettevo come eravamo abituati noi in Italia a mettere l'obiettivo come un infinito lei mi diceva no se lo metti come un infinito quella è un'attività non è un obiettivo ma come io dicevo inizialmente pensavo che dicesse una stupidaggine poi invece mi sono reso conto che ti aiuta proprio mentalmente a pensare a che cosa stai promettendo alla fine del progetto perché perché alla fine del progetto lo devi dare quindi se io ho scritto nelle slide rafforzamento delle capacità di lavoro io alla fine di questo progetto a dicembre se non le ho rafforzate le vostre capacità di lavoro ho fallito quindi l'obiettivo è un sostantivo che deve promettere qualcosa al termine del progetto se quella cosa quindi è una spada di Dample è una cosa seria ovviamente non c'è niente a che vedere con il titolo come vedete il titolo è tutta un'altra cosa poi qui trattandosi di un documento finalizzato al PNRR vedete il milestone è target perché loro si sono preoccupati di esprimersi con gli stessi termini richiesti dal PNRR e vedete che i milestone hanno un indicatore sì e no cioè vi ho detto che è un indicatore qualitativo quindi o l'ho raggiunto significa che sono sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo per conseguire l'obiettivo o non l'ho raggiunto quindi c'è un indicatore sì e no giustamente bravi i target invece sono nella realtà a mio giudizio i target sono risultati attesi non l'obiettivo quindi loro hanno riportato giustamente i target che vedete che hanno degli indicatori invece quantitativi quindi sono stati bravissimi perché le hanno riportati ancora una volta in come sostantivi e ci hanno messo un indicatore quantitativo quindi numero tre progettazioni di intervento realizzazione per i due completata aggiornamento piano urbanistico poi insomma dovrebbero essere qui se vogliamo fare una critica che i target sono troppi cioè l'Unione Europea ci chiede di indicare dei target e poi ci dice non ne mettete troppi altrimenti non riusciamo a seguire molto facilmente se l'avete realizzato o no quindi vanno indicati due tre target al massimo ma veramente significativi del fatto che il progetto ha conseguito successo per esempio potrebbe essere guardate vi dico un assurdo se io questo progetto lo sto facendo in una regione che è stata sistematicamente inondata magari posso dire che c'è un indicatore di rischio per le case che è calcolato tra l'altro dalle assicurazioni per le quali se non facciamo il progetto il 100% delle case in quella zona sono a rischio di inondazione perché loro si fanno i loro calcoli e dicono poiché non ci stanno gli argini poiché ci stanno degli eventi di pioggia sistematici che inondano io non ti faccio l'assicurazione te la faccio pagare un fracco di quattrini perché se viene un'inondazione s'allaga il tuo garage va bene quindi basterebbe mettere una percentuale di riduzione del rischio per il numero delle case perché io non devo dire come vado a fare il progetto se vado a demolire l'ex idrocontrol o se vado a innalzare gli argini questo sarà un problema nostro nella realizzazione del progetto ma l'Unione Europea vuole vedere che tu dai risultato cioè che elimini se fai un progetto di contrasto al rischio idrogeologico vuole che tu il rischio l'hai eliminato che poi l'hai eliminato eliminando demolendo la struttura dell'idrocontrol che costituisce una barriera nel fiume e quindi fa innalzare il livello dell'acqua o lo fai diciamo innalzando gli argini come si faceva nell'ottocento quindi e non in una visione moderna di naturalizzazione del fiume diciamo che più o meno il risultato in termini concreti è lo stesso poi vedete che c'è una timeline che l'Unione Europea vi ho detto ci indica ci chiede di indicare in forma di semestrale insomma con una cosa con degli indicatori temporali riferiti a semestri quindi molto indicativa e poi ci sono delle stime di costo che derivano dalla progettazione ma nel documento di identificazione derivano da parametri di esperienza di chi sta facendo il documento perché questi la progettazione non ce l'hanno ancora però devono darci un'idea di perché sono arrivati a 25 milioni di euro perché se uno mette nel progetto 25 milioni di euro a livello di stima iniziale deve fare un uso etico delle risorse deve andare a dire giustificare dove le ha tirate fuori questi 25 milioni 25 milioni sono una cifra quindi deve andare a dire dove le ha tirati fuori questi 25 milioni cioè deve dire il criterio di stima che normalmente è parametrico basato si dice sull'expert judgment ultima ma non ultima e qui torno ai giovani deve dimostrare che questo progetto risponde alle requisiti di impatto dell'Unione Europea per il PNRR che sono tre ve li ricordate no? riduzione della coesione cioè coesione riduzione dei divari scusate quindi ci deve dire perché questo progetto riduce i divari allora devo dire le inondazioni in una regione ben gestita dal punto di vista territoriale avvengono una volta ogni cento anni da noi vengono una volta ogni due anni se io faccio sto progetto contribuisco a ridurre quindi l'impatto sulla coesione è che miglioro diciamo la gestione del territorio poi crescita devo far capire perché questo progetto fa crescere perché potrebbe essere un progetto in mezzo al deserto e quindi lo faccio o non lo faccio la regione Sardegna non se ne accorge invece un progetto che diciamo candidato al PNRR deve dare dimostrazione anche che fa crescere il territorio in termini economici sociali in qualche misura e poi creazioni di posti di lavoro perché se io facessi questo progetto per dire oggi ci ho cento addetti alla manutenzione del territorio per esempio con questo progetto ne faccio avere due e licenzo 98 persone è un progetto sicuramente innovativo ma non dal punto di vista della crescita dei posti di lavoro non ha impatto anzi ha un impatto negativo quindi può essere finanziato può essere brillantissimo magari con altri strumenti dell'Unione Europea che ne so Horizon 2020 quando c'era quelli della ricerca ma non con questo del PNRR tutto questo vedete deve essere contenuto se è fatto bene in una pagina in maniera tale che se uno si legge sta cosa immediatamente capisce la struttura logica del documento poi se la trova interessante va avanti se invece pensa che sia una schifezza non non solo legge manco quindi risparmia un sacco di tempo vedete che poi si dettagliano tutte le cose ma soltanto per chi ha trovato interesse nella lettura della sinossi Andrea Andrea Dessi ti è sembrato che questa chiacchierata che abbiamo fatto su queste cose apparentemente banale non è stata non è patrimonio comune queste sono nozioni di general management ma ce le mai raccontate qualche dirigente delle nostre strutture dice fai il documento così mai è stata una perdita di tempo secondo te questa chiacchierata iniziale no no assolutamente ti ringrazio Andrea non ti avevo preso presa a casa ma non è che ci eravamo messi d'accordo Davide Davide Lampis che ne pensi? interessante io lavoro per un'impresa quindi non so sono un po' tra parte eh guarda in un'impresa peggio ancora io nei primi dieci anni ho lavorato in un'impresa molto internazionalizzata se noi non producevamo documenti noi lavoravamo all'estero e dovevamo lavorare con i francesi gli inglesi e i tedeschi anzi te lo dico se noi lavoriamo in Marocco all'estero cambia un po' il il metodo se lavori in Marocco e tu dimmi se non è vero non lavori da solo perché se lavori da solo mi metto paura perché all'estero si lavora perlomeno in tre normalmente si lavora un'impresa italiana che siamo noi un'impresa con cui condividere il rischio perché noi normalmente non abbiamo tutte le capacità quindi magari un'impresa francese che magari ci aiuta sotto certi aspetti e poi sempre e non mai senza con il partner locale quindi quantomeno tre soggetti tu devi noi abbiamo creato diciamo la mano d'opera locale quindi abbiamo la mano d'opera locale il nostro responsabile è crescerlo diciamo e poi abbiamo i partner sul territorio ma la mano d'opera locale non te la sei presa andando al mercato a cercare gli operai no c'è una decina d'anni di lavoro insomma coordinati da qualcuno localmente insomma quindi sostanzialmente quando si va all'estero si va sempre col partner perché se no uno non sa come si fa la dia oppure tutti gli adempimenti per il personale locale non sa come funzionano perché se non c'è un partner locale te lo spiega passi l'interno prima sei mesi a capire com'è il quadro normativo quindi si va normalmente con il partner locale allora se si deve immediatamente l'offerta internazionale dura 45 50 60 90 giorni mi sembrano tanti ma se tu devi offrire 25 30 milioni di euro in cui 10 milioni li devo fare io 10 milioni li devi fare il francese 10 milioni li devi fare il partner prima che ci mettiamo d'accordo esattamente fino alla vite che cosa noi ci facciamo perché se poi non è tutto chiaro fin dall'inizio sono pasticci indiavolati e si perde quando io firmo l'offerta devo aver perfettamente fatto capire ai miei tre partner che parlano tre lingue diverse con una lingua di convenzionale che può essere o il francese o l'inglese o lo spagnolo che cosa vogliamo fare quindi tutte queste comunicazioni che in un contesto italiano possono essere sorvolate in un contesto internazionale competitivo sono l'ultra regola nel senso che io non mi ero mai accorto di aver lavorato con un'azienda che era una scuola di management e me ne sono accorto quando me ne sono uscito e sono andato a vedere le imprese italiane che lavoravano in Italia per noi come si gestisse una riunione di persone per pianificare un lavoro avendo pratiche di lavoro con i francesi i tedeschi e gli inglesi che ce l'avevano insegnato era la regola noi avevamo il planning theater cioè che era su una sala con tutte le lavagne su tutte le pareti in cui venivano fatte appunto le suddivisioni e le pianificazioni del lavoro in offerta internazionale perché noi facevamo offerte da 100 milioni di dollari e dovevamo ripartircelo tra i francesi l'inglese e il locale quindi queste cose che in Italia sono trascurate se vai all'estero col cavolo che sono trascurate sono fondamentali anche perché il francese se vede che tu non sai fare un documento non ti sai esprimere ti dice il bello mio e chi viene a fare un lavoro con te che vedo che non sei capace di fare queste cose minime quindi peggio mi sento e anche grazie a Davide perché ci ha richiamato l'attenzione sul fatto che questa esigenza che adesso noi abbiamo di allinearci alle pratiche della Commissione Europea è un'esigenza assolutamente obbligatoria se poi andate all'estero perché voi dovete essere credibili all'estero sapete che la prima la prima opinione scusate se vi dico questa cosa che sembra una banalità la prima opinione che si fanno quando vedono Davide Lampis arrivare all'estero dice questo chi è? è in italiano ah sapete che cosa dicevano prima allora questo sapete come lo usiamo? lo usiamo per andare a comprare le sigarette questo è il primo diciamo la prima difficoltà che noi avevamo adesso sta cambiando ma noi avevamo un'immagine continuiamo ad avere un'immagine di un paese eccezionalmente bello e dove la qualità della vita che ce lo sognano tutti quanti appena vedono in italiano dicono ah beato te che sei in italiano quindi questa dovremmo essere dovrebbero essere contenti ma la prima diciamo opinione che avevamo internazionalmente era quella di gente poco affidabile da utilizzare solo per comprare le sigarette io lavoro abitualmente con gli inglesi gli inglesi se non ti trovano affidabili ti ammazzano cioè se ti trovano affidabili ti fanno lavorare molto meglio che con gli inglesi ma se ti sbagli di una cosa sono terribili almeno erano come sta cambiando tutto il mondo ho due domande posso sono petiuscia allora mi chiedono dalla chat dove nominare il file con il nome e dove inviarlo e l'altra domanda è invece il test di fine corso quando si fa io indicativamente direi a fine venerdì a fine corso guardate per il momento consideratelo soltanto per perché quello di fine corso cioè scusate vi sembrerà non so se avete capito che stiamo facendo un progetto ispirato al tailoring che è quello che ci dice PMI cioè stiamo facendo in relazione al contesto non è detto che io il post training assessment test lo faccia esattamente uguale a quello che avete visto in pre ma questo mi serve per vedere un attimo le conoscenze in entrata è un test indicativo non è un test obiettivo non è un test diretto è un test come si dice proxy quindi prendetelo così adesso io ho dato il tempo a tutti di venire e di entrare siamo diventati 134 che era la stessa media di ieri questo anche è un bel risultato cioè se si sdornano a collegare 130 persone è un bel risultato allora sono le 10 meno 5 l'avete ricevuto tutti adesso io vi do il scrupolo lo rimetto uguale in questo momento nella chat perfetto allora il per coloro che ci riescono partiamo adesso mettete il nome e cognome se non avete problemi io lo gestirò in estrema confidenzialità avendo voi dato comunque diciamo l'autorizzazione a utilizzare il vostro nome e cognome per soli fini diciamo del corso stesso 10 minuti vi ho già detto che non avrà nessun diciamo utilizzo ai fini della selezione serve soltanto a me per capire le conoscenze in entrata che poi vi comunicherò mediamente statisticamente ovviamente non personalmente 10 minuti da adesso mettete il nome fate in rosso la domanda giusta riportate il numero della domanda giusta nella pagina finale prendete il documento e Catiuscia mi dia un consiglio lo facciamo restituire a lei in mail o in chat in chat non in chat non tutti riescono a spedirlo in mail proviamo a info chioccia la sportella qualtimprese punto it allora se ridice o rimette in chat la sua mail si la rimetto info chat insomma alla stessa mail sulla quale avete ricevuto il documento la rinviate ok signori vi ringrazio dieci minuti di vostro lavoro in bocca al lupo se non avete idea non ci mettete niente va bene partite partite non ci mettete Grazie a tutti. 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 Ci vediamo alle 11. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Nel project. Grazie a tutti. Sì. Grazie a tutti. 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 Benissimo. Grazie a tutti. 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 esercizio psicologico. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Tutto questo. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. Vincenzo. Grazie a tutti. 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 a tutti.